Il preannunciato calo delle temperature che ha preso il via nel fine settimana appena trascorso ha permesso ai residenti della provincia di Pesaro e Urbino di assistere alla caduta dei primi fiocchi di neve sul territorio anche a bassa quota. La situazione è sempre rimasta sotto controllo, sia in città, dove l'imbiancata è stata appena accennata, sia nei comuni limitrofi che nell'entroterra, dove nonostante le precipitazioni siano state più abbondanti, non si sono registrate particolari criticità. Sabato mattina, Monbaroccio, Montegaudio e Urbino si sono risvegliati con qualche centimetro di neve che copriva le strade, come loro anche i comuni di Scotaneto, Monteguiduccio e Sant'Angelo in Lizzola. Diversi mezzi spargisale predisposti nei centri abitati che sono intervenuti per favorire la circolazione dei mezzi nei tratti più colpiti dalle precipitazioni e per scongiurare la pericolosità delle strade ghiacciate. La neve ha poi lasciato spazio al maltempo e alle forti raffiche di vento che si sono scagliate in città soprattutto tra sabato e domenica. Diversi gli interventi in zona mare dei Vigili del Fuoco che, oltre per la rimozione di alcune piante e rami pericolanti, hanno operato in Viale Trieste, all'altezza di Via Leonardo da Vinci, dove un palo della luce è caduto colpendo l'insegna dell'hotel Ambassador e finendo sulla tettoia del gazebo del bar sottostante. Fortunatamente il danno non ha interessato persone e la strada è tornata alla normalità poco dopo l'arrivo dei Vigili.